Amici di Stranamore Siciliano, ciao a tutti, siamo sempre nella rubrica dei video messaggi d'amore e questa sera siamo a Cefalù e abbiamo in nostra compagnia Mimmo, Mimmo 43 anni e di Palermo, ciao Mimmo Ciao, sono di Palermo, sì Ascolta Mimmo, tu sei sposato, sì? Sì, sono sposato di una di Lampedusa E sei venuto qui a Stranamore Siciliano, tu innanzitutto vendi il cocco fresco che è bellissimo in questo momento lo sto assaggiando amici, è favoloso Allora, dimmi Mimmo, tu praticamente sei venuto a Stranamore Siciliano per fare un video messaggio, giusto? Sì, un video messaggio, sì, saluto a mia moglie Lina che si trova a Lampedusa e tutti i miei figli Allora dedichi questo video messaggio a loro? Sì, questo video messaggio a loro lo dedico a loro, sì Vabbè, allora Mimmo, lì c'è la telecamera, da questo momento in poi tu puoi fare il video messaggio d'amore rivolto alle persone che conosci, ok? Allora ragazzi, vi penso sempre, venite sempre qua a Cefalù Da Mimmo il cocco, cocco bello ha ghiacciato la mandorla Ok ragazzi, vi voglio bene a tutti, ciao Ciao a tutti Ok amici, abbiamo sentito il video messaggio di Mimmo, questo cocco è favoloso Ok, grazie Mimmo Ciao, ciao Grazie sempre, ciao da Alberto e ciao anche da Mimmo Da Mimmo sempre, ciao 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 amici Ciao amici Ciao amici